al basket, torniamo a collegarci con Brindisi, con Edi Denbischi, a te la linea Edi. Ci riproviamo, eccoci di nuovo qui dagli spogliatori del palapentassuglia di Brindisi, è finito il giro di andata e soprattutto è finito il posticipo targato all'esport tra Enel e Emporio Armani Milano, con coach Stefano Michelini e soprattutto con coach Sergio Scariolo. Sergio, sospiro di suo lievo immagino. Sì, senz'altro perché era una partita con grandissima pressione, ci giocavamo l'accesso alle Final Eight e soprattutto ci giocavamo la necessità di dover confermare con una vittoria contro una squadra forte in un campo difficile, finalmente a livello di partita i progressi che rilevavamo da tempo in allenamento e anche molti minuti delle partite precedenti. Naturalmente abbiamo avuto anche il nostro sbandamento nel terzo quarto, in cui ancora certa fragilità, una fiducia non a prova di bomba naturalmente, dopo le diverse cicatrici, abbiamo le diverse ferite che ancora non sono cicatrizzate, per meglio dire, di questo inizio di stagione, ma l'inizio, il primo tempo è stato molto molto bello, abbiamo fatto esattamente tutto quello che volevamo con molta precisione, sia in difesa che in attacco e poi siamo riusciti nel quarto quarto a riprendere pian pianino in mano il filo della partita con una migliore intensità difensiva, ricontrollando meglio i rimbalzi e mettendo anche qualche buon tiro, a cui avevamo rinunciato nel terzo quarto con l'effetto di perdere dei palloni e che invece dovevamo prendere con fiducia come abbiamo fatto nel quarto di nuovo. Soprattutto Sergio, dal momento in cui di fatto sulla vostra palla due, Venezia è spugnato il campo di Varese e avete l'ulteriore obbligo di vincere per restare dentro e su quella tripla finale di Reynolds avete perso una piazza migliore rispetto all'ottava che adesso vi farà incontrare Varese nelle Final 8. Ma sai, sono tutte grandi squadre, ovviamente non puoi far conti, quindi siamo contenti di aver vinto, adesso è importante riuscire magari a continuare per provare a creare una mini striscia positiva che possa essere importante per rinforzare la nostra fiducia, perché ne abbiamo vinte sei di fila fuori casa, però ne abbiamo preso cinque di fila in casa, quindi questa irregolarità non ci ha permesso mai di godere di due o tre vittorie di fila. Adesso il programma è questo, siamo contenti di come i giocatori nuovi stanno inserendo di quello che ci hanno portato a livello di entusiasmo e di spirito, pian pianino stiamo chiaramente crescendo anche a livello di gioco. Ti lascio una curiosità brevissima da questo Stefano Michelini perché siamo proprio in chiusura. Sergio, questo 50% da tre, il 13 su 26, neanche un tiro forzato, c'entra qualcosa con l'arrivo di Green, già avevate il tiro da tre punti, ma lui sicuramente ha fatto tirare tutto in ritmo secondo me. Ma senz'altro c'è il numero degli assist lì a dimostrarlo, direi anche addirittura che lui avrebbe potuto prendere qualche tiro da tre punti in più, invece è entrato con l'umiltà e con la voglia di giocare per gli altri, che va bene perché in una squadra come la nostra in cui questa non è una caratteristica diciamo tanto spiccata, avevamo bisogno di uno così, è chiaro che adesso dovrà anche con fiducia prendere i tiri che si sentirà di poter prendere perché sappiamo che può farlo perfettamente. Grazie, ringraziamo il coach Sergio Scariolo per la pazienza e per essere stato qui con noi dopo la vittoria nel posticipo della sua Milano qui a Brindisi, grazie Sergio e noi possiamo ovviamente restituire.